Provincia, bilancio e amministrative, tre temi che metteranno a dura prova il governo Crocetta. Il GUP di Palermo ha rinviato a giudizio tutti i dieci imputati sulla trattativa Stato-Mafia. Il protocollo di intesa contro l'illegalità e la criminalità ad Altavilla Mircia. Buon pomeriggio, bentrovati a questa prima edizione del giornale di Media News, oggi giovedì 7 marzo. Provincia, bilancio e amministrative, questi tre temi che metteranno a dura prova la maggioranza e il governo, soprattutto del presidente della regione Rosario Crocetta. Vediamo. Sei mesi per trovare un punto d'incontro tra le varie posizioni per la riforma degli enti locali. Questa è la decisione presa nel corso della conferenza dei capi gruppo all'Arsa e il presidente della regione. Martedì prossimo il DDL del governo approderà in aula. Il primo passaggio dovrebbe essere quello di rinviare il voto di maggio, prima che scatti il termine per l'indizione dei comizi e nominare i commissari. È probabile che il percorso non sarà semplice, ancora in molti, nelle province vedono appetibili poltrone. E ancora si approgge in commissione la discussione sul bilancio, che dovrebbe approdare a Saladerco le primi di aprile. Lunedì prossimo la maggioranza si riunirà per affrontare questo e il tema delle amministrative. A questo proposito l'Udc è disposta a trovare un'intesa con il megafono di Crocetta. L'attenzione è concentrata soprattutto su Catania, dove il PD sarebbe contento di poter contare sull'appoggio dei centristi a una candidatura di Enzo Bianco per Palazzo degli Elefanti. Nel capoluogo etneo l'Udc conserva il suo peso, che secondo i dirigenti democratici etnei potrebbe risultare decisivo nella sfida. Ma la non più incognita 5 Stelle e la riorganizzazione del centro-destra porteranno sicuramente a sfide incerte ed aperte in tutti i comuni. Sicilia, zona franca per ottenere vantaggi fiscali e doganali. Due emozioni distinte sono state presentate all'Assemblea regionale siciliana. La prima dal gruppo dell'Unione di Centro, l'altra dai gruppi Lista Crocetta e Movimento 5 Stelle. Abbiamo due mesi di tempo per attivare le procedure. Un regime fiscale doganale speciale porterebbe una concreta inversione di rotta nell'economia siciliana. L'innoleanza, capogruppo all'Assemblea regionale siciliana dell'Unione di Centro, spiega così il senso della mozione che ha firmato insieme a tutto il suo gruppo e alla collega Valeria Sudano di Cantiere Popolare da presentare a Sala d'Ercole. Alla regione sarà chiesto l'impegno per istituire in Sicilia le zone franche previste dal Trattato di Lisbona come strumento normativo utile a ridurre il divario fra i diversi livelli di sviluppo delle regioni dell'Unione Europea. Le zone franche godono di particolari sgravi fiscali e doganali ed è per questo che le aree di frontiera o le isole sono le più indicate per l'adozione di questo speciale regime. La Sardegna, ad esempio, ha già fatto richiesta. Un'altra mozione, simile per certi aspetti, sarà presentata dalla lista Crocette dal Movimento 5 Stelle. I due gruppi presenti a Lars proporranno l'attivazione delle zone franche urbane. Il principio è lo stesso, ma lo strumento è differente e non si collega all'Unione Europea. Le ZFU sono zone franche che corrispondono alle aree urbane, nelle quali sono i comuni che attivano autonomamente i progetti di defiscalizzazione. È importante coinvolgere e interessare i comuni, ha chiarito Nello Di Pasquale, primo firmatario della mozione, perché saranno loro i protagonisti sul territorio. Dobbiamo dotare loro di quegli strumenti per poter istituire tramite delibere e atti amministrativi queste zone franche urbane. I Forconi e l'Aias fermano gli autotrasportatori il prossimo 11 marzo, ma alla protesta non parteciperanno le altre sigle. Vediamo. L'11 marzo i Forconi di Ferro e l'Aias di Enrichichi si fermeranno dando vita a presidi dislocati in tutta la Sicilia. Le motivazioni della protesta risiedono nelle difficoltà delle imprese e il collasso dell'intera economia siciliana. La protesta degli autotrasportatori si annuncia comunque frammentata, perché le altre associazioni hanno annunciato che non parteciperanno al fermo, rimanendo comunque in stato di agitazione in attesa dell'insediamento del Governo nazionale e rassicurando gli agricoltori che potranno continuare a spedire le loro merci. Oggi il direttore di Confesercenti Catania, Salvo Politino, ha rivolto un appello alla Prefettura, alle forze dell'ordine, per fermare la manifestazione dei Forconi, per evitare il ripetersi e l'aggravarsi dei danni già provocati lo scorso gennaio. Tre giorni di blocco, ha detto, sarebbero delle teri per l'economia siciliana già in ginocchio e in particolare per il settore ortofrutticolo, che pagherebbe i costi più alti a causa della deperibilità dei prodotti agricoli. Seppur legittima qualunque protesta, risultato del crescente malcontento nel Paese, riteniamo assurdo bloccare una regione e il suo settore produttivo per manifestare le proprie idee. Lanciamo dunque un appello ai Forconi chiedendo di fare un passo indietro e le autorità competenti di intervenire. Il GUP di Palermo, Pier Giorgio Morsini, ha rinviato a giudizio tutti i dieci imputati dell'udienza preliminare sulla trattativa Stato-Mafia. Sotto accusa, ex ufficiali del ROS Capimafia, Massimo Ciancimino, l'ex senatore Marcello Dell'Utri e l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino. Il processo comincerà il 27 maggio prossimo davanti alla prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. Per gli ex ufficiali del Rosso dei Carabinieri, Antonio Subranni, Mario More, Giuseppe De Donno. Per il Capimafia, Totorrina, Luca Bagarella, Antonio Cinà, per il pentito Giovanni Brusca e per Dell'Utri, l'accusa è di violenza o minaccia a corpo politico dello Stato. Ciancimino, in particolare, è accusato di calugne e concorso in associazione mafiosa, mentre Mancino di falsa testimonianza. Cambiamo argomento. Confartigianato Palermo fa il punto della situazione del settore in città e provincia. Emerge un quadro nel quale l'imprenditoria è attanagliata dalla crisi economica e molto svantaggiata dalla pressione fiscale. 5.584 imprese iscritte, 7.468 quelle cancellate negli ultimi cinque anni e le previsioni per la fine di marzo fanno registrare un ulteriore ammanco di 2.000 unità. Questi per confartigianato imprese Palermo i numeri della crisi che coinvolgono il tessuto imprenditoriale cittadino. Tante le responsabilità che vanno dal mondo politico all'abusivismo del settore fino all'attuale congiuntura economica. Gli artigiani, denuncia Annunzio Reina, si trovano ad avere meno incassi e più tasse da pagare. Siamo in attesa che qualcosa avvenga per le imprese perché il problema delle imprese oggi è diventato grave. Se le imprese chiudono, guardate che finiscono le possibilità degli ammortizzatori sociali, finiscono le possibilità dei pagamenti delle pensioni perché chi crea il reddito in questa terra e in Italia sono le piccolissime, le imprese nane e le piccole e medie imprese. Prova allora di intervenire l'amministrazione comunale. L'Italia dei Valori ha presentato una mozione che potrebbe regalare le imprese degli sgravi fiscali attraverso la riduzione delle imposte prettamente di competenza del Comune. Chiediamo di rivedere le tasse e le imposte locali come TOSAP, come IMU, come Tarsu che in questo momento hanno indici massimi di imposizione fiscale, di rivederle, di abbatterle. Attraverso una razionalizzazione generale dunque le imprese potrebbero avere un po' di respiro ma a patto che intervenga anche la Regione perché si sa i soldi da qualche parte si dovranno pur prendere. Due provvedimenti di sequestro di disponibilità patrimoniali e finanziari in misura equivalente all'entità delle imposte e vase sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Palermo. Il primo provvedimento riguarda un ristoratore e dalle indagini è emersa un'evasione di oltre 1.700.000 euro di redditi netti non dichiarati ai fini delle imposte dirette di 350.000 euro ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Contestualmente è emerso che tutti i 16 addetti al locale erano impiegati completamente in nero. Per questo motivo sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 100.000 euro. Il secondo provvedimento di sequestro riguarda una società di bagheria che opera nel settore dell'elettronica industriale che negli anni dal 2008 al 2010 avrebbe utilizzato fatture false per gonfiare costi riportati quindi abbattere il reddito imponibile per un valore complessivo di circa 225.000 euro. Il piano d'attuazione del PUT, Piano Urbano del Traffico e i fondi in arrivo per l'avvio degli imponenti progetti di urbanistica in città, ossia i PRUST. Novità che arriveranno presto a Palermo e che per il presidente della Commissione Attività Produttive del Comune, Paolo Caracausi, potrebbero portare una ventata d'ossigeno per l'economia cittadina. Un possibile rilancio della città anche attraverso i PRUST? Sì, sono arrivati finalmente in Commissione Attività Produttive che io presiedo finalmente la delibera per i PRUST che potrebbero finalmente rilanciare l'economia di questa città, almeno una parte dell'economia. I PRUST sono già delle richieste che sono state avanzate da tantissimi anni. La Presidente Amministrazione, il Presidente Consiglio le ha tenute nel cassetto. Noi finalmente li abbiamo messi fuori e a breve daremo un parere al Consiglio Comunale. Intanto anche il PUT sembra un buon punto. Il PUT è anche un altro punto di partenza di questa amministrazione. È arrivato il piano generale del urbano, del traffico e noi abbiamo iniziato già a visionarlo come Commissione Attività Produttiva. Dall'approvazione di questo piano andremo a individuare nuove aree, soprattutto le aree pedonale, dove iniziare anche nuove attività di dittatura commerciale. Una su tutte che mi preme sottolineare è quella di fare la pedonizzazione di tutta via Bici del Belmonte, che è l'accesso alla città di Palermo da una delle tre porte di Palermo, che è il porto dove arrivano spesso navi da crociere, dove i turisti non hanno un percorso naturalmente turistico vero e proprio che potrebbe rilanciare l'economia della città. Non possiamo che concordare con il Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, e non possiamo che rallegrarci del fatto che finalmente si è compreso quanto sia necessario e urgente affrontare in modo serio il problema dei rifiuti a Palermo, liberando la città e i suoi cittadini dalla gestione commissariale dell'azienda per l'igiene ambientale. Lo ha affermato il vice sindaco di Palermo, Cesare Lapiana, che ha anche la delega all'AMIA. Finalmente ci si rende conto, prosegue Lapiana, del fatto che la gestione commissariale dell'azienda sull'orlo del fallimento dal 2010, gestita da una terna di commissari nominati dal Ministero dello sviluppo economico e una gestione disastrosa sotto il profilo finanziario, organizzativo e della gestione del sistema dei rifiuti. Le ordinanze di protezione civile o i provvedimenti della magistratura sono ormai gli strumenti per fronteggiare quotidianamente la situazione disastrosa in cui versa l'azienda e per evitare il collasso del sistema. Così il vice sindaco Lapiana. Adesso ci fermiamo per una pausa tra poco. E' arrivato il digitale terrestre! Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale, Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista! Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre! Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, ha incontrato Carlos Munoz, fondatore e amministratore delegato della compagnia aerea Bolotea che ha presentato all'amministrazione comunale i piani della società per fare dell'aeroporto di Punta Raisi uno dei propri hub, uno degli snodi cruciali, cioè delle proprie rotte. Bolotea vuole realizzare a Palermo una presenza molto importante, ha detto il sindaco, duplicando quanto già avviene a Barcellona e rafforzando quindi il ruolo euro-mediterraneo della compagnia aerea. Orlando e Munoz hanno informato che il prossimo 20 marzo otterranno una conferenza stampa nel corso della quale sarà presentata la pianificazione dei voli e delle rotte di Volotea su Palermo. Sarà indetta dalla provincia regionale di Palermo in tempi brevi una nuova gara d'appalto per l'ammodernamento degli impianti di risalita di piano battaglia, condizioni più favorevoli per gli eventuali operatori che intendano investire sulle infrastrutture sciistiche delle madonie. La decisione è stata presa dall'amministrazione di Palazzo Comitini in quanto entro il termine previsto di ricevimento delle offerte non ne sono pervenute, rendendo di fatto deserto l'esperimento di gara. L'appalto prevedeva una consistente compartecipazione finanziaria da parte degli investitori privati per la realizzazione dell'opera e per la gestione degli impianti. Così il Presidente della provincia Giovanni Avanti ha scritto alla regione manifestando la volontà di approfondire e rivedere questo piano finanziario. Il coordinamento d'ONES e il PCISL di Catania quest'anno in occasione dell'8 marzo, nello spirito di promuovere e incoraggiare la cultura del volontariato e del sociale, quale espressione dei principi di partecipazione e solidarietà devolverà parte della quota destinata agli omaggi floreali per tutte le donne a favore di un progetto finalizzato alla donazione di supporti destinati a bambini ricoverati presso strutture ospedaliere di Catania nei reparti di pediatria. Per valorizzare l'evento il coordinamento d'ONES ha programmato due incontri, oggi al centro di meccanizzazione postale, domani presso l'ospedale Garibaldi, reparto pediatria. Un protocollo di intesa, adesso ci spostiamo in provincia di Palermo, un protocollo di intesa per contrastare ogni espressione di illegalità e criminalità. È stato sottoscritto ieri ad Altavilla, Milica, al termine di un consiglio comunale convocato espressamente dal presidente Carmela Lombardo e aperto alla partecipazione della cittadinanza. È un obiettivo mirato principalmente dal centro studi Parlamento della Legalità e dal suo fondatore e coordinatore Nicolo Mannino, presenti tra gli altri il sindaco di Altavilla Milica, Nino Parisi, i ragazzi del mini consiglio comunale, l'arciprete del santuario della Milica, Don Liborio Scordato, il dirigente scolastico Angelo Fontana, il coordinatore scolastico Giuseppe Di Franco e le rappresentanze delle associazioni di volontariato. Il Parlamento della Legalità è stato fondato nel 2007 dal professor Nicolo Mannino, membro del coordinamento antimafia di Palermo e promotore di iniziative di cultura e di legalità. Ascoltiamo le interviste. Dubbiamente la nostra presenza come Parlamento della Legalità è un segno di affetto a questa meravigliosa città di Altavilla Milica, al suo sindaco, Cipretta e Don Liborio. È un modo significativo per dire da quale parte stiamo, con i bambini, con i giovani, con gli scout, con un'amministrazione che profuma di libertà, anche se, lo diceva poco fa il sindaco, siamo in un comune del famoso triangolo della morte. Però vedi questa cosa mi fa a me soffrire, perché dico anche quando vado nel Catanese, Adrano, Mister Bianco, Patarnò, Biancavilla, altro triangolo della morte, San Giuseppiato, San Ciprello, Corleone, dico sta Sicilia? È tutto un triangolo da avere paura? Io dico di no, perché se poi guardiamo gli occhi dei bambini, dei giovani, della gente semplice, dei padri di famiglia, sono certo che sicuramente possiamo cantare vittorie. Ma diciamo che con la stipula di questo atto, con il professore Mannino, con il quale lo stesso fatto di essere accanto mi riempie di gioia e di tanto orgoglio, è un motivo di riscatto per un'etichetta che impropriamente c'era stata avviata proprio da Altavilla in quel momento, e che oggi praticamente la riscattiamo con la stipula di questo protocollo d'intesa. Ci è stata assegnata anche l'ambasciata della fede, c'è uno stretto connubio fra fede e legalità, perché noi sappiamo sempre che chi ha fede nell'istituzione vive nella legalità, chi ha fede in Dio vive nella legalità. Quindi oggi Altavilla in questa maniera fa questo atto in modo da riscattare quel momento e soprattutto dimostrando di perseguire un percorso serio di legalità, dando la possibilità di assegnare i beni confiscati alla mafia che sono utilizzati da quando c'è questa amministrazione. Due sono state assegnate, uno alla Caritas, uno al Consorzio Lisse, un altro cappannone confiscato alla mafia, si stanno concludendo i lavori e diventare a casa comunale, per un'altra stiamo redigendo un progetto che diventerà caserma dei vigili urbani, quindi meglio di così non si può. Noi siamo un paese di persone perbene, un paese di persone oneste e laboriose. È chiaro che piccole devianze ci sono ovunque, Altavilla non è il paese perfetto, però sicuramente quell'immagine che gli era stata data da 30 anni fa, oggi viene definitivamente seppellita, grazie anche al professore Mannino, che è un'istituzione a livello nazionale della legalità. Cade opportuno questo Consiglio Comunale e questo tema della fede in questo anno della fede voluto dal Pontefice Benedetto XVI, obbai emerito. La fede è necessaria per il cammino di ogni uomo, a maggior ragione per il cammino dei fanciulli e dei giovani, perché la fede è luce e senza la luce non si sa dove si va, non si vede la strada. Domani alle 11 presso la sala consigliare Bernardino Verro del comune di Corleone si svolgerà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria agli 11 uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo che nel luglio del 2009 recuperarono i resti del sindacalista vittima di mafia Placido Rizzotto a 60 metri di profondità nella foiba di Rocca Busambra. Inaugurazione questa sera alle 19 della collettiva fotografica sui mercati presso la sala mostra del pensionato universitario San Saverio di Palermo. La mostra è organizzata dal gruppo Unione Italiana Foto Amatori Sicilia. La mostra verrà aperta da un incontro sul tema che verrà coordinato da Maria Vitello, responsabile dell'ufficio Cultura dell'Erso, e vedrà la presenza di padre Cosimo Scordato, Gaetano Basile, Alberto Mangano e Roberto Trapani della Petina, apertura sino al 29 marzo, esclusi sabato e domenica. La mostra rimane aperta tutte le mattine dalle 9 alle 14. Nient'altro per questa edizione, io vi ringrazio per la vostra attenzione, arrivederci. Grazie a tutti.